Ci sarebbero milioni di modi, è chiaro che questa domanda secondo me è estremamente politica, perché è chiaro che la RAI non è una fabbrica come tutte le altre, è chiaro che la RAI non è un'impresa come tutte le altre, la RAI è frutto di anni e anni di utilizzo per vende politiche e quant'altro, è chiaro che ad oggi avere un interlocutore fisso e corretto anche da parte dell'istituzione municipale nei confronti della RAI è estremamente difficile, noi speriamo che per il tramite anche della nostra candidata premier Daniela Santanchè si riesca ad avere un dialogo istituzionale di alto livello con quest'organo in modo che si possano mettere in atto una serie di iniziative, faccio un esempio, se all'interno del municipio la RAI si facesse sponsor di iniziative di carattere culturale, di carattere associazionistico e quant'altro, come si dice a Roma non farebbe un soldo di danno, il problema è che la RAI destina le proprie risorse per la cura dell'immagine e quant'altro ad amici e parenti come fa da anni oramai e invece è giusto che comunque debba essere rivolta l'attenzione a quel municipio che la ospita.